Allora ragazzi, oggi andremo a Lago Languido, sulla mappa di Fortnite che è proprio qua Ok, allora, quindi, adesso sto prendendo gli sceldini perché, sinceramente, ho bisogno di sceldini dunisiani Voi lo sapete già che ho bisogno di sceldini Eh? Perché? Ebbè, ma devi sa... Ebbè, Angelo, Angelo, si fa così, eh, si fa così Allora, eh, io non so cosa... Ah, che schifo le bombe, buh! Ma fai schifo però! Dovevo ucciderlo io! Perché non lo vedi, dici, non lo vedo, no, non l'ho visto, anzi sì, l'ho visto, è indeciso Ma dici che non ha senso uccidere quei tizi? A terra, dico No, fai non killarli e sembra una buona cosa perché... Aha, c'è un tizio qua comunque Vai, uccidilo, io non ti aiuto, se muori, muori Ma è stupido, ma è un robot, scusami Era fortissimo, era fortissimo, era fortissimo Ma infatti, cioè, mi aveva visto, no? Stava, stava tipo prendendo il materiale Però... Boh, cioè non... Eh sì, molto Ma poi ha fatto un muro, boh, non so, vabbè, comunque Allora, dunisiani, io sono sempre più scioccato da certi giocatori Che sono molto meglio di me sicuramente Però... No, vabbè, scherzo No No, dov'è che l'hai sentito, Angelo? Di qua, di qua, di qua, di qua Di qua lo sparo C'è un tizio Eh, perché sono in due Quindi molto... Anch'io sono molto intelligente Allora, però Adesso Stiamo attenti Perché qua si potrebbe morire Chi è? Guarda, guarda Sono dei bot Mi arrabbio Ah Eh, beh, può essere Perché c'è... Boh, mi sembra strano Altrimenti Perché non faceva letteralmente niente Però i bot in realtà fanno qualcosa sempre Eccoli, i bot erano Eh, sì Molto belli i bot Allora, vabbè Prendiamo i materiali Comunque io non ho lottato praticamente Tu? Come sei messo? Nel loot Non schifo Cos'è che hai trovato il pacco? Ah, il pacco di lucero Certo Sì, sì, sì Quello che hanno aggiunto nel nuovo aggiornamento di Fortnite Che c'è stato oggi E che io... No, non lo voglio Fa schifo Eh, sì Io li metto in pieno Eh, vabbè Allora Cioè, scusa tanto Non ha senso Ah, però qua ci sono materiali Che tu hai lasciato indietro E che io invece prenderò Perché sono molto intelligente E bello e simpatico A differenza tua Scherzo Ok No, scherzo Ok Ok Che schifo però Comunque adesso posso ricaricare Incredibile Wow Wow Comando Sì Perché prima non avevo settato i cosi I comandi Eh, sì, sì, sì Comunque io qua prendo il medikit Perché Mala, 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 mala È il pacco di lucero Le... Ma scusa Questo ti attacca anche a te quindi Sì Se lo butti Dipende dove lo butti Ma secondo me non ha senso tenerlo Cos'è questo coso? Un rampino Vabbè, arrivo Guida, guida Eh Aspetta che qua ce la posso fare Eh, arrivo Mamma mia Sono bravo in Fortnite Stai fermo Comunque Ok, ok Si sta fermando Ok, molto bene Sto usando la barca Dunisiani Sì, bravo Angelo Molto, molto cringe Devo dire Eh, giusto Più cringe di così Ma devo andare su questo fiume Perché qua se si esce Noi moriamo Com'è questa storia? Molto bene Abbiamo raggiunto la destinazione Aspetta un attimo che io voglio prendere No, però qua funziona comunque Ma com'è possibile? No, io sono scioccato Scusate, Dunisiani Il video sta degenerando Devo dire Hai preso i cildini? Sì, vai, vai Eeeh Non so dov'è che siamo qua Scusami Eh, io manco Ma siamo ai porti della mappa Eh, esatto Allora, senti Utilizziamo la barca Per andare Anche sulla terra Ferma Eh, vai Ma sgarra Sgarra Usa il nostro Eh, ma io ho paura Com'è che si usa? Ah, con il shift Oh, gente Dove? Eh? Com'è che si esce? Ah, da Con la E Ok Scusa, dov'è che l'hai vinta? Ah! Molto bene Molto bene Molto bene Devo dire Ah, no Sto impanicando tutto Non so cosa ho fatto qua Ho fatto una specie di Di buttare il legno Via, via questo Via questo Che forza Uh, cos'è? Eh, il cacciato Mmh Arrivo Arrivo Caccia Non mi lasciare Non mi lasciare Vabbè No, che cringe No, che cringe Per favore Che già sia un cringe Di nostro Poi figuriamoci pure Ah No, io rido troppo Pure a citare I miei amici vecchi, no? Sì Mamma mia Allora, andiamo di nuovo All'altra gente E dove sta l'altra gente? Tu dove dici che stia? Con la barca, dici Se mi togli la vita Ti vitalizzo La togli No Vabbè Vabbè Io me ne vado a piedi Perché sinceramente Abbiamo litigato Abbiamo litigato Ora non ti parlo mai più Cosa? Oh, guardalo È un pazzo kamikaze assassino E se non mi fai entrare Brutto Troglodita Dov'è che dici di andare? Eh Sei in sap È in sap Sì Siamo in sap Ogni video diventa sempre più cringe Cioè Dico Ogni video di Fortnite Che facciamo Sempre più cringe Sì Sì Chissà perché Vabbè Casomai taglierò tutto Tutto praticamente il cringe Si spera Gente 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 Dov'è che lo vedi? Dov'è che la vedi? Dov'è che lo vedi? Davanti 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 Quindi dici qua? Per caso È Molto interessante Questo è i fini del video Sì Angelo Tu sì che sai far video Devi bere pure È bello Sì ci interessa No Tu devi bere che hai fame Molto bene Molto bene Quello è giro Ok no Davanti 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 c'è gente Te lo dico Dici che davanti c'è gente Ma dov'è che Dov'è che sta questa gente? Mi fai morire Io ti picchio Ah Ma Dici a me Ma mi ti permetti No io sono Ma scusa ma io non ho munizioni Allora Angelo Ehm Sì Ah dietro Pensa te Hai visto? Hai visto? Hai visto? Sì 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 Io ho visto Io ho visto Ah sta qua sotto Tiene la Tommy Gun Ah pensa te Beh Ormai io penso che Sono caduto veramente No io sono scioccato da me stesso Ah ah Pensate No vabbè Scusate Scusate Io non so cosa sto facendo Vai vai Angelo Vai Angelo Vai Angelo Bravo 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 Bravissima Ho visto Ho visto Ho visto Tieni Tieni il medikit Tieni il medikit Com'è che si Ma vabbè Ma l'ho buttato in teoria Vabbè Tieni comunque Ok Eh se morivo Eh se morivi Era molto brutta Come situazione Però comunque Io voglio prendere Questo Prima di tutto Ah c'è pure il rampino Dici Ah e tieni anche Gli scudi Tu hai gli scudi Ah sì Perché io gli scudini Il cecchino Visto che non ho munizioni Non mi serve Mi spiace No non ti serve Non ti serve Ok Allora in teoria Di fronte hanno Infatti 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 Stanno pushando Stanno fightando Ok stanno fightando Davanti a noi Perfetto E cos'è che proponi Di fare Non uccidere per forza Esatto Esatto In teoria è uno Ma mi hai spaventato Con quella cosa lunga Cosa Vabbè Ci siamo capiti Eh sì Ci siamo molto capiti Eh No Queste cose non le dovrei fare Allora Io sono davanti Ma tu Cioè tu uccidi Tutti le tre Oh ma veramente Ma la smetti di uccidere tutti Io sono scioccato da Angelo E per Io non ho più materiali Comunque Devo prendere i materiali Mannaggia a me E a Alla mia stupidaggine Acuta Ok Ok sì Potremmo vincerla Con Eh Attenzione che c'è la zona Che rompe le scatola E Esatto E quindi adesso Dobbiamo andare Qua Perché Porca miseria Caccia Sono troppo contanto Ah sì Sì sono troppo contento C'è gente no? Mhm C'è gente Però la safe è lontana Questa Ah Mi hanno tempo la jump Ah Tieni la jump Angelo io penso che qua ci sia qualcuno Mi sembra di aver visto qualcuno Oppure Bravo 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 Sì 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 Ok perfetto Ah Guarda te Senti di te Senti di te Vabbè Vediamo se Uccidilo Dei ucciderlo tu Eh no 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 Aiutami Cioè nel senso aiutami Solo se Solo se hai capito Eh No aspetta Dov'è che sei? Vabbè io intanto perdo tempo Te lo dico io non ho visto uno che stava venendo qua sotto da te Però dove è andato? Sì Non ne ho idea Ma io guarda che non ho sentito Cioè nel senso Io Eh io l'ho visto Eh anche io Ma dico L'ho anche sentito tipo qua vicino Quindi non so Può essere che se ne sia andato No oppure sta camperando nella casa Anche questo può essere Teniamo una jump C'è gente Bene L'importante è ucciderlo Perché sinceramente Sì l'importante è logico No cos'è sto Stavo laggando di ping Cioè proprio di Oddio La prima volta Stai laggando tunis Eh Ma no secondo me è fortnite Secondo me è fortnite No perché a me non ha laggato Non è fortnite No no Angelo Angelo è la zona Mannaggia Gian Giuberto Sì conferma vieni Non diamo la jump Ok Meno male che ce l'hai Adesso vedi che Eh Ah comunque avevo di nuovo sentito il tizio Eh Chissà perché Eh Allora siamo a gatto Vuccoso Che che Quello Che che è stato Ma come si permette Quel tizio là veramente Ma so è pure io Cioè veramente No 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 Vieni via Vieni via Vieni Andiamo via No Angelo Caspiterina C'era un tizio là C'era un tizio Letteralmente Ho visto un tizio Ho visto un tizio Ho visto un tizio Io adesso non ci vado Eh Allora Eh Direi di non andare là Tu che dici No 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 Perché a parte Vabbè Casomai L'ho 20 Io ho tolto 20 Solo per dargli fastidio Vai via Via Ah Perfetto E lui mi ha tolto tutta la vita Sono molto intelligente Hai visto Mamma mia Vabbè Prendo gli scudini va Tu hai Il medichitta Sì Tengo il medichitta Molto bene Allora Io lo vedo là 26 Di blu Ovviamente Sono fuori zona Ora Bravi 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 Ok No io non so dove sto sparando Eh Altri tizi Ma basta Sono qua sotto Angelo No come Eh io sono Nella mischia Eh tu sei Nella mischia Io ho poca vita Eh anch'io Aspetta eh Che qua È tutto un casino Lo sapevo Mi ha ucciso Mi ha ucciso Finita Finita Si è morti Molto bene Denisiani abbiamo concluso questa partita Questa vittoria Questa Cioè nel senso si vittoria magari No non Non prendere a pugni Fortnite perché sennò poi dopo lui ti prende a pugni Giustamente Però eh Ci sono i tizi Cattivi Che ci uccidono E scrivete nei commenti No ai tizi cattivi Eh E io vi darò il cuoricino E soprattutto commentate così Impariamo A giocare meglio a Fortnite Soprattutto io che ne ho bisogno Perché come avete visto Non ci so giocare per niente Fai il modesto ragazzi Fai il modesto Assolutamente no E quindi grazie per aver guardato questo video E ci vediamo al prossimo Ciao Ciao